Ah beato te David che hai le dita lunghe, fortunatamente per te hai le dita lunghe quindi riesci ad arrivare a tasti, ecco mettiamo subito una cosa in chiaro, questa cosa non è assolutamente vera, io rispetto alla media ho delle dita corte, so che può sembrare dai video che emetto, soprattutto me lo dicono spesso quando vedono le esecuzioni di certi brani che faccio, questo sembra effettivamente che io arrivi in tasti molto distanti con estrema facilità, prima di tutto non è vero che ci arrivo con facilità, secondo ripeto le dita mie non sono lunghe, c'è una marea di chitarristi che mi dicono così e poi andiamo a vedere hanno delle dita che sono il doppio delle mie, So che può sembrare ma il fatto è che se fai fatica magari ad arrivare con il mignolo ad avere delle aperture oppure a ricoprire un buon numero di tasti sulla tastiera e vedi che fai fatica magari con il mignolo eccetera, ci possono essere veramente tanti e diversi fattori che incidono su questa cosa e quasi mai il vero problema è la lunghezza delle dita, quindi in questo video andiamo a vedere quali sono i problemi, come ovviare a questa cosa e ti darò appunto un'ottima soluzione che è la stessa che utilizzo io e che utilizzano tutti i chitarristi per riuscire a fare le cose con semplicità anche con allarghi più importanti, ovviamente non sempre è possibile risolverlo ma adesso ne parliamo bene dopo la sigla. Ok allora ma com'è possibile che io dica di non avere le dita lunghe però poi quando vado a fare delle esecuzioni io riesco a ricoprire diversi tasti a livello proprio di apertura della mano eccetera eccetera. Bene, dobbiamo fare un passo indietro ovvero andiamo a vedere effettivamente cosa influisce sul ricoprire i tasti, tanti tasti, quindi fare gli allarghi, quindi allargare le dita eccetera eccetera, cosa influisce? Primo, attenzione che non tutte le chitarre sono uguali, quindi per esempio una chitarra con scala più corta ovviamente mi aiuterà tantissimo a ricoprire più spazio se andiamo a contare i tasti. Io per esempio ho certe cose che faccio sulla Les Paul che ha una scala molto corta, non riesco a farle con la stessa semplicità per esempio su una Stratocaster che ha una scala invece molto lunga. La scala che cos'è? La distanza tra il capotasto e il ponte, diciamo dove le corde incontrano il ponte, quindi proprio la lunghezza intera della corda vibrante. Ok? Quindi quella lunghezza lì è la scala o diapason della chitarra, ovviamente se è più corta i tasti li avremo leggermente più schiacciati in questo senso, in larghezza. Quindi se io faccio un tasto, uno lo salto, devo suonare un altro, quindi il tipico 3, 5, 7 per esempio, ok, dopo vi faccio vedere anche con la chitarra, è ovvio che fatto su due chitarre diverse può sembrare più facile su una, più difficile sull'altra. Per esempio l'ultima volta che mi è stata fatta notare questa cosa sulla lunghezza delle dita, fatalità, ero su una Les Paul, ovviamente sull'Ales Paul è molto più semplice, la chitarra, il manico è più piccolino, più stretto e i tasti sono più stretti, quindi riesco ad arrivare e fare cose che non riuscirei magari a fare con la stessa semplicità sulla Stratocaster. Altra cosa che influisce è la larghezza del manico, come ho detto prima, anche in questo caso per esempio su una Les Paul è la larghezza del manico in altezza, adesso vediamo magari anche più nello specifico con la chitarra in mano, questa cosa qua, cioè la larghezza in questo senso del manico, ma anche la profondità, ovviamente, cioè quindi quanto è profondo il manico, queste cose influiscono ovviamente molto molto per quanto riguarda quanto io riesco ad allargare ovviamente perché, dopo lo vedremo perché, un'altra cosa che influisce ovviamente l'apertura delle dita, ovviamente c'è, ci sono persone che hanno, non riescono ad aprire troppo le dita, ci sono persone che le aprono un po' di meno, magari così dovrebbero allenarsi, in quel caso ci sono degli esercizi apposta per allenarsi, ovviamente in vari miei corsi troverete gli strumenti adatti per esercitare questa cosa, ma la cosa più importante di tutte, e rimango in questa inquadratura perché adesso faccio vedere di cosa sto parlando, ecco, dovreste sentire anche la chitarra, la cosa più importante non è tanto quando io vado a fare questo, ok, la cosa più importante non è quanto riesco ad aprire la mano perché notate bene, ok, notate bene quanto poco io stia aprendo la mano per fare 5, 7, 9, non sto aprendo tanto la mano, ma allora cos'è che cambia, qual è il segreto per arrivare facilmente ad avere una certa apertura? È molto semplice e il segreto è come sto mettendo il polso, quindi la postura, la spalla, il gomito, tutto quello che arriva prima delle dita, quindi le dita sono solo, cioè i polpastrelli alla fine come noi andiamo a schiacciare la corda, sono solo l'effetto di tutto quello che c'è prima che mi aiuta ad arrivare con facilità a posizionare bene le dita, perché cosa succede spesso? che magari io imbraccio la chitarra magari in questo modo e in questo modo, come vedete, se io faccio questo non ci arrivo alla sesta corda con il mignolo, cioè più di così, cioè devo tirarlo, ok? quindi quello che devo andare a fare è aiutarmi ad arrivare con il mignolo, vedete questo movimento, ok? quindi io posso stare così, tipo fare questo, molta fatica faccio, oppure posso avvantaggiare il polso e girarlo in modo che guardate come aiuto il mignolo, cioè la differenza tra questo che faccio fatica e questo che vado a superare, posso fare qualunque cosa, non è la lunghezza delle dita, non guardate solo la fine, cioè questo è l'errore principale di chi dice caspita probabilmente ho un problema di dita corte, perché si guarda solo la fine di tutto quello che è una conseguenza della postura di spalla, gomito, polso, soprattutto polso, perché io semplicemente andando a modificare l'angolo del polso vado ad aiutare il mignolo ad arrivare appunto che sia molto più comodo, se io devo fare questa cosa qui, così sto veramente facendo uno sforzo incredibile con il mignolo, se invece lo faccio così, cioè se io giro leggermente, sono molto molto rilassato, quindi possiamo girare il polso, possiamo portare avanti il polso, ovviamente sappiamo che non abbiamo un'unica postura per tutto, non stiamo suonando chitarra classica e musica classica, quindi non c'è una postura per tutto, poi non so neanche se nella chitarra classica ci sia anche lì solo una postura, però non dobbiamo essere rigidi con la postura quando andiamo a fare un bending, avremo questa postura, ovviamente ognuno ha le proprie, anche a differenza di dove sto sul manico, quando vado a fare un altro tipo di cose avrò il polso più avanti, avrò il polso che va ad aiutare il mignolo eccetera eccetera, quindi cerchiamo di aiutare le nostre dita, cioè non andiamo a pensare caspita non ci arrivo fine, ma cerchiamo di aiutare le nostre dita ad arrivare il più possibile in modo facile sulla chitarra. Ok, quindi questo è il motivo per cui sembra che io abbia le dita lunghe, ma non è per niente vero, semplicemente arrivo facilmente magari a certi tasti perché mi aiuto con la postura, ok? E l'impostazione eccetera, quindi ovviamente se vuoi imparare o migliorare, vuoi scoprire bene tutte queste cose, vai su chitarrafacile.com che trovi un sacco di corsi sia per partire che per migliorare e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!